Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di tre partite molto importanti una è quella del Palermo che ieri dovevamo fare il video ma per motivi di lavoro non ho potuto fare quindi parlerò in questo video insieme alle due partite Serie A che si sono recuperate, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta come avete visto l'Inter è ingiocabile, è un Inter davamente forte sia in difesa che anche in attacco è un Inter che veramente va verso Scudetto, quota 69 un Inter che parte a più tempo veramente con un'accelerazione pazzesca segna il gol con Darmian e con Lautona Martinez poi Lautona Martinez si divora un gol sul calcio di rigore che a sua volta poteva segnare la doppietta e non c'è riuscito in questa partita poi Di Mark arriva al 54esimo nel secondo tempo quindi veramente dal primo tempo siamo passati al primo tempo che l'Inter sta a 2-0 poi siamo passati al secondo tempo che l'Inter inizia a segnare inizia a dominare la squadra e la partita soprattutto quando riguarda il piano lo stesso palla e nei tiri tiri ben 15 contro i 6 dell'Atalanta un'Atalanta veramente sottotona un'Atalanta veramente KO sia per quanto riguarda le forze che ha a disposizione ma anche sia mentalmente perché l'Inter veramente divora le squadre è ingiocabile come squadra non ha punti deboli per quanto riguarda sia difesa che attacco quindi l'Atalanta in questa partita veramente non poteva fare nulla ha subito 4 gol è stata veramente annientata, distrutta rispetto all'Atalanta che abbiamo visto contro il Milan che veramente è stata un'Atalanta sottotono un'Atalanta dominata ha avuto la fortuna del calcio di rigore e quindi giustamente ha avuto la fortuna di portarsi a casa con un pareggio ma lo sa che Gasperini con le milanesi fa veramente fatica a giocare e infatti se vi sono 3.000 il Milan meritava di vincere in quella partita poi l'Atalanta con un po' di furbizia e intelligenza ha trovato il calcio di rigore e ha trovato il pareggio che è in portata dall'Atalanta ma sta di fatto che con questa sconfitta nella classifica l'Atalanta è messa un pochino male perché il Bologna resta a quota 48 e ha la possibilità di passare a quota 51 mentre l'Atalanta avrà la possibilità con la partita in meno di recuperarla e di andare a quota 49 quindi il quarto posto è ancora aperto tra Roma e Bologna e Atalanta le squadre che veramente ci guadagnano in questa partita sono il Bologna e la Roma che resta l'Atalanta a 46 quindi automaticamente la Roma ha la possibilità in caso di vittoria di passare l'Atalanta ma anche l'Atalanta ha la possibilità di scavalcare il Bologna quindi veramente una cosa incredibile come classifica ma vi ricordo che la prossima partita giocherà contro il Bologna quindi sarà uno scontro Champions League perché Atalanta a Bologna la prossima giornata quindi se il Bologna in caso di vittoria andrà a vincere o andrà a pareggiare la Roma la possibilità di andare a fare punti con l'Atalanta questo è quanto riguarda il concetto dell'Atalanta per quanto riguarda l'Inter non c'è nulla da dire è ingiocabile, è da scudetto, ne va a quota 69 si distanzia tanto, 12 punti sono tanti dalla seconda 16 se non sbaglio sono dal terzo posto quindi veramente un Inter che quest'anno vuole automaticamente lo scudetto e chiudere la situazione prima del ritorno della Champions League prima del ritorno della Champions League perché vincendo contro l'Atalanta e vincendo 4 a 0 dimostra che qualsiasi squadra si mette in mezzo l'Inter non ha niente l'Inter non ha niente ha una bellissima squadra difesa, attacco, è troppo forte ragazzi non c'è nulla da dire in questa squadra ha preso pure i rischi e Taremi per quanto riguarda la prossima stagione quindi si rinforza tutto quanto riguarda l'attacco del centrocampo poi parliamo del Napoli finalmente la vittoria del Napoli arriva ma arriva una vittoria del Napoli veramente esagerata perché vince per 6 a 1 questo secondo me è lo sfogo dei giocatori per distruggere soprattutto questa situazione brutta è una situazione veramente bruttissima in quanto riguarda il Napoli ma questo se è 1 dimostra che 1 e Sassuolo strischia veramente la 3B e continuando così non c'ha veramente nessun nessun vantaggio di salvarsi perché 3 vitti su 5 partite 4 sconfitte è un pareggio nonostante tutto anche la risonazione di Dionisi fa pensare che veramente il Sassuolo è una brutta crisi la prossima partita gioca contro il Verona quindi si giocheranno un'altra partita scontro salvezza il Napoli ritorna la vittoria va a quota 40 dopo nelle ultime 5 partite ha fatto 2 vittorie 2 pareggi 1 sconfitte il Napoli si riprende pareggio in Champions League un pareggio una vittoria in campionato veramente un Napoli che la prossima sicuramente gioca contro la Juventus si arriverà veramente preparata mentalmente con questo 6-1 6-1 dove segna andiamo a vedere se non sbaglio doppietta Osimène poi segna doppietta Carascelia se andiamo a vedere no tripletta Osimène doppietta Carascelia poi segna Rachmani veramente assist di doppio di Politano assist di Osimène veramente tutti i giocatori da Napoli con questa con questa prestazione riescono a buttare a sfogarsi e a buttare fuori lo stress la situazione di crisi che gira intorno alla società del Napoli Napoli veramente tonico Napoli veramente che gioca una bellissima partita Osimène ritorna al gol con una grandissima tripletta questo è un bellissimo segnale secondo me per le prossime partite quindi vedremo sicuramente un Napoli diverso perché Calzona sta incominciando a metterli in pronta in questo Napoli quindi in bocca al lupo a Calzona in bocca al lupo a questo Napoli che stiamo a quota 40 il quarto posto non è distante perché mancano solo 4 punti quindi si può fare tutto si può vedendo l'Atalanta per dei punti se lo facendo la Roma sta recuperando il Bognano ancora deve giocare la prossima contro l'Atalanta quindi è una situazione importante a questo Napoli poi parliamo del nostro Palermo un Palermo che secondo me è sotto sciocco un Palermo che secondo me dopo una scia positiva arriva il pareggio contro la camonese che non ci sta secondo me perché vai a vedere un pareggio prenderlo con un uomo in più vincendo a 0 e poi ti fai recuperare 2-2 da una squadra che ha un uomo in meno per tutto rispetto della camonese ma è una situazione dove il Palermo potrà gestirla meglio invece quanto riguarda qui il Palermo secondo me sottovaluta la squadra la Ternana gioca in casa riesce a pagare 1-1 poi nel secondo tempo non so che è successo c'è stato un blackout un lungo blackout che abbiamo subito 3 gol abbiamo subito 3 gol in totale 2 al secondo tempo che non riesco a capire come era sistema della difesa veramente problemi in difesa e dobbiamo risolvere questi problemi in difesa anche i giocatori offensivi si diventano veramente un'occasione molto importanti e questo secondo me fa tanto rammarico spero che la prossima se andiamo a vedere la prossima andrò a giocare con un'altra squadra che ci sarà ci sarà sicuramente fino alla torce perché ogni partita la 6-B è una partita a sé e quindi la prossima giocheremo contro il Brescia quindi la 6-B vi ricordo che è un campionato veramente difficile dove vediamo Palma primo Venezia secondo Cremonese terzo Como quarto dalla lotta al secondo posto siamo scivolati di nuovo al quinto posto è un problema un dilemma da risolvere perché è difficile da risolvere questo dilemma ma io spero che questo Palermo riesca a qualificarsi in questa serie A perché quest'anno se non riesce ad andare in serie A è veramente un fallimento totale un fallimento totale perché è un Palermo che dove la società ha speso e si spende ancora e quindi non se lo merita soprattutto la società di avere questi risultati quindi sveglia ragazzi vi mando un grosso supporto ma voglio vedere un Palermo con le palla la prossima partita contro il Brescia voglio i tre punti voglio andare a quota 49 e voglio veramente un Palermo diverso un Palermo diverso reparto offensivo più attento tutto nelle occasioni e reparto difensivo più attento nel difendere e neutralizzare gli avversari questa è una piccola analisi quanto riguarda il Palermo perché vedo un Palermo sotto il shock vedo difficoltà in difesa soprattutto abbiamo fatto gli acquisti come di Akite ma c'è ancora da migliorare in difesa e devono dare più supporto al portiere perché prendere quei due gol così è veramente brutto veramente brutto è una squadra che è la Ternana che sta lottando per la salvezza quindi vi ricordo che la Ternana sta lottando per la salvezza e noi abbiamo perso contro la Ternana abbiamo pareggiato contro la Cremonese che eravamo in 11 più il vantaggio dei 2 a 0 quindi stavamo 2 a 0 con un uomo in più e la Cremonese stava un uomo in meno e riuscita a pareggiare addirittura stavamo perdendo pure quella partita quindi c'è un problema di fondo Corini deve riuscire a risolvere questo problema fate sapere nei commenti cosa ne pensate di queste tre partite della Serie A c'è qualcosa c'è ancora tanto aperto oltre alla discussione dello squadetto che ormai è chiuso secondo me c'è la discussione della zona Champions zona Champions dove tante squadre si stanno proponendo e stanno mettendo il loro gioco in campo e si dove vogliono a tutti i corsi conquistare un posto in Champions League mentre per quanto riguarda la Serie B è un campionato diverso più difficile dove sempre Parma, Venezia Romarese Como e Palermo stanno lottando per un posto in Serie A ci vediamo al prossimo video ragazzi buona giornata a tutti e domani domani sera ci sarà Lazio-Milan quindi vi porterò il post partita sabato mattina vi mando un grosso abbraccio grazie per il supporto che date ci vediamo alla prossima analisi e spero che il video vi è piaciuto bella ragazzi grazie a tutti